la finestra aperta per quanto riguarda un po' il PDL, insomma anche con interventi che sono sempre di un 4-5 persone che comunque sono attivamente coinvolte con questa attività facebookiana, su questo gruppo del Cefalù, non mi ricordo come si chiama, Cefalù, Sgarbi, sindaco di Cefalù, una cosa del genere. Allora questo innanzitutto non è un gruppo del PDL, questo è un gruppo dove scrivono molte persone, io scrivo, se voi andate a vedere, io presento un scrivo. Sì, diciamo che comunque ha quel taglio lì, è inevitabile pensare, ci sono comunque rappresentanti del PDL. No, non esiste, non ci sono rappresentanti del PDL, ci sono persone che fanno attivismo politico nel PDL, ma non sono rappresentanti del PDL, bisogna tentare sempre di distinguere le cose, tra l'altro io ho visto, perché seguo anche come te questo gruppo, anche perché sono incuriosito su questa domanda che è stata posta a titolo di questo gruppo, perché? Perché da portavoce dell'associazione Ruggero II, è innegabile, l'avete visto, l'abbiamo visto, ho organizzato l'incontro sulla presentazione del libro Piene di Grazia del professore Sgarbi e quindi diciamo che volevo capire, ero curioso di vedere come... Anche perché non sono riuscita a togliere l'opzione delle mail, quindi mi arrivano ogni giorno 80 mail. Io non ce la faccio più, quindi non è una cosa lì, noi abbiamo dei gruppi, abbiamo il gruppo del PDL, il gruppo di... Comunque il punto, arriviamo alla... Allora, devi essere secca allora, non mi girare... No, no, non ti ho girato, sto facendo parlare, dico, tu cosa ne pensi della formazione politica dei giovani all'interno di un partito? Cioè tu credi che il partito sia ancora importante per la formazione, per la gavetta che un individuo debba fare, per poi arrivare attraverso appunto un bagaglio di competenze acquisite all'interno del partito, quindi il partito come vi va, oppure ci si può improvvisare uomini, fra virgolesse, politici? In Italia non abbiamo più bisogno di avventurieri.